Io sono Angelo Reppucci, coordinatore di questa sezione. Ringrazio tutti gli intervenuti, anche i conobbani di sempre. Ringrazio Gianluca Capra per quanto riguarda la sezione di Montella, Dimitri Musco per quanto riguarda la sezione di Atripalda. Ringrazio gli onorevoli, sempre gentilissimi, accogliendo sempre le nostre istanze, di Gennaro Viviero, che è l'onorevole Mucciolo. E vorrei dire due cose solamente. Sono stati invitati tutti i vertici del partito, sia in provincia che in regione. Quindi non abbiamo fatto distinzioni. Questa sezione nasce non per creare altri momenti di rottura, ma per creare un momento di aggregazione da tutte le sezioni che sono sparse sul territorio. Purtroppo questo partito nel tempo si è andato scindendo in molti rivoli e questa nostra sezione simone l'obiettivo, speriamo di riuscirci, di unire tutti questi rivoli in un solo fiume. Quindi ringrazio tutti di essere venuti e do la parola a Beppe Sarno, che è il nostro esponente di spinto nella sezione.